Allora adesso abbiamo il piacere di collegarci telefonicamente con Paolo Specchia, allenatore e noto opinionista televisivo. Salve, ci sente? Buonasera. Buonasera mister, allora io volevo chiederle in vista della partita del Napoli con il Bologna come vede tatticamente questa sfida tra la squadra di Malesani che gioca con una sola punta quindi in maniera chiusa sicuramente e quello di Mazzari che invece dovrà proporre il gioco. Ma io credo appunto che le difficoltà del Napoli dove hanno in casa sono sempre quelle quando incontra appunto la squadra di ora sulla punta, la presenza di tre centrali non è mai sempre facile poter poi sfruttare al meglio gli altri due o uno dei tre perché è chiaro che giocare i controi centrali con la zona punta si per qualcosa come la zona generale più avanzata del puro sistema di venti, cioè nella zona che oscilla tra la zona di venti e la zona di centrale dopo quando uno valente appunto dopo tre quarti, la zona che finisce tra le linee e in quel senso alle gare appunto per cui mi vedo con un suo curo profondo come fanno ovviamente le squadre che giovano così perché il Napoli ha sempre avuto anche dei tempi di rega, questo tipo di profondo che al di là di tutto il Napoli in casa si ritrova lo che è un po' opaco direi quasi all'ombra di se stesso e allora può anche riuscire ecco a dare certo quindi neanche un fatto di attenzione forse più degli altri di appannamento, l'Alezzi si è confermato un donatore importante anche se proprio nelle ultime forse due gare l'ha fatto chissà bene tanto come all'inizio ma quello che delude è questo anzi che succede io credo che non si possa più sopportare, sopportare le sue assenze durante la partita si deve diventare più continuo e si è lasciato sempre un po' in costante ma in questo periodo insomma si finisce per giocare a 10 questo è proprio su questo argomento vorrei farmi intervenire con una domanda di Vincenzo Letizia buonasera mister buonasera Vincenzo allora la domanda è questa, ecco per dare una maggiore qualità al giropalla, alla verticalizzazione non sarebbe forse più utile studiare un modulo alternativo ma io credo che se ci ero mai capito che il giocamento del Napoli guidato da Mazzarri è un atteggiamento, è una scelta che non prevede i giocatori tecnici e io credo che il Napoli in che dovrà, e credo che è una scelta condivisibile da tutti, supportare i tre davanti deve forse giocare con due migliori incontrissime, proprio per me sui giocatori diversi un'ultima domanda da parte di Mario Pesce Paolo carissimo, ti saluto ti saluto Mario tutto bene, allora ti volevo dire una cosa secondo te è un Napoli questo definitivo o a gennaio tassativamente si deve fare degli acquisti a seconda dei quali sono gli acquisti giusti? ma io credo che il Napoli non farà qui, anche perché il mio giudizio è una squadra che è stata costruita in questo modo cioè non è che vi ho aspettato un centrocampista diverso da quelli che ci sono perché come dicevo prima, finché ci sarà un Napoli impostato in questa maniera ha bisogno di due giocatori davanti alla difesa tipo tipo appunto il Pazienza il Gargano anche noi non c'è uno il Gep Daki il Gep Daki che ho visto poi è un discreto giocatore che può reggere anche questo la Serie A non è certo la stella ma vabbè ma noi non dobbiamo reggere la Serie A dobbiamo fare pure le coppie sotturati bene se invece uno crede che il Napoli ha bisogno di un giocatore di un play tipo Pirlo non lo avrà mai perché poter supportare tre giocatori davanti per quanto anche bravi ma anarchici un pochino incostanti come Amici che deve avere forse due mediane due cagliacchi per dirla sì e quindi il problema è solo far trovare chiedo la condizione in questo momento manca a Macchio manca un momentino ad Amici per rivedere quel Napoli che comunque ha fatto bene questa è l'importazione io penso che è difficile trovare gente se siete più forti in questo mercato di paziente di Carcano sono già arrivati poi due che giocano un po' quindi non possiamo anche dedicare tanto e bene che sono solo se ci vedrà io credo che alla lunga non mi aspetto chissà io aspetto solo di rivedere un Amici che è molto più vivo e un maggio molto più intenso lucido però così come l'ha fatta l'osco purtroppo non è partito bene d'accordo mister noi le ringraziamo con la partecipazione alla prossima allora alla prossima ciao grazie ciao ciao